se gli altri lo consentono volevo fare un breve saluto ai siciliani dove siamo stati divinamente bene la settimana scorsa stamattina ho ricevuto la telefonata di francesca la più piccola di voi mentre stavo cogliendo i gelsi bianchi che adesso vi posso far vedere perché il cane se li ha mangiati tutti quanti è un cane particolare eccolo qua questo è Kashmir il saluto che vi invio è quello di tenere presente che le cose che ci siamo dette che ci siamo scambiato sono la ragion d'essere della nostra vita più riusciamo ad avere delle realtà che partono dal nostro profondo più il cane legge bene il futuro perché su quella carta ci stavano le domande del forum il cane ci sono tutte carte la cosa importante sono le relazioni umane le relazioni umane sono quelle che sgorgano dalla creatività del momento auguri a tutti quanti e felicità per sempre